Vodovico di Canossa, trofeo Italia Sport Prototico al Motor Show, si è andato fortissimo per un soffio, ti è mancato l'accesso alla finale tra il primo e il secondo posto? Lo so, ho sbagliato, ho sbagliato due volte e succede, insomma un po' l'emozione, un po' la città, un po' la pista, diciamo un po' l'inferienza, ma adesso vediamo giocarcela col terzo e quarto posto. Se hai le prime esperienze su questo tipo di vetture, come le ha valutate all'interno di un circuito così impegnativo o ancorché stretto? Forse non è proprio il loro campo, però se la cavano bene, nel senso che io cerco di dare il massimo con questa macchina che fa il massimo dentro questo circuito, purtroppo non è bastato per il primo o secondo posto, vediamo per il terzo e quarto. I punti più impegnativi del tracciato? Sicuramente la prima curva dopo il traguardo, quello, il primo sul rettilineo corto e poi le due curve veloci che bisogna prenderle bene perché poi dopo ti penalizzano poi se le prendi male e tutto il resto del rettilineo finale, per cui quei due punti lì sono i due punti peggiori in assoluto. Congratulazioni! Grazie!